Buon dia a tutti! Oggi sfoggio il mio esclusissimo maglione green screen per farvi un annuncio. A dicembre 2023 tornerò sul mio canale YouTube e tornerò con un'iniziativa particolare che è anche abbastanza divertente. Sto parlando di Frismas with the Coach, una serie di video che vi accompagnerà dal primo al 24 di dicembre. Non sarò solo, altri nei loro canali YouTube porteranno questa iniziativa. Sto parlando di, al momento in cui registro, Babbage con Commodore 64, Hilarik76 con una serie di video su MSX, Ross Wildstar con Amiga Advent Show, Ostendorf con il calendario del picchiadvento, Mr. Micro con hardware retro, il pole di gomma, Vanax Abadium che non sarà su YouTube ma sarà su Odyssey e io per quanto mi riguarda porterò una serie di giochi per computer con la caratteristica di essere completamente gratuiti. Da qui, Frism Free. Quindi, Natale, gratuito con il Coach. Vi aspetto dal primo dicembre al 24. Ci sarà una serie di giochi gratuiti di vario tipo, quindi Abandonware, piuttosto che giochi indie, piuttosto che riedizioni rivedute corrette di altri giochi. Avrete un po' di divertimento e ogni tanto qualche ospite ci verrà a fare visita. Io vi aspetto e ci vediamo con Frismas with the Coach. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti.